Rispunta alla psicosi dei furti nel Golfo di Policastro. Da qualche settimana sono riprese le segnalazioni di visite moleste da parte di ignoti pronti a far manbassa di soldi, oro, apparecchi tecnologici ma anche altri insignificanti oggetti rinvenuti negli ambienti domestici. Questa volta a fare impensierire però sono stati tre colpi messi a segno da abili borseggiatrici in tre negozi a Sapri in Corso Umberto I. Tre giorni differenti ma stesso modus operandi che fa pensare ad un collegamento tra gli episodi. L'ultimo furto messo a segno è avvenuto martedì nel conosciuto negozio Benetton. Qui i malviventi, probabilmente donne e fintesi clienti interessate alla mercanzia avrebbero approfittato di un attimo di distrazione delle commesse per trafugare portafogli contenuti nelle loro borse poggiate all'ingresso. Un colpo facile soprattutto in un cilento positivo e fiducioso non abituato a tiri mancini e in effetti la stessa tattica è stata messa a segno in altri due storici negozi della stessa via. Il borseggio ad alto rischio. Sugli episodi sono in corso le verifiche e le indagini dei carabinieri della compagnia di Sapri. Al vaio anche le testimonianze delle addette alla vendita, vittime del borseggio, che potrebbero chiudere il cerchio attorno a possibili responsabili. Intanto sono riprese le segnalazioni anche per quanto riguarda i furti in abitazione. Almeno due, di cui una a Policastro, quelli comunicati alla nostra emittente nelle ultime settimane. Da capire se si tratta della solita banda che torna a colpire o di furti isolati messi a segno da più gruppi di malviventi. La popolazione è di nuovo in allerta comunque e mentre crescono le richieste di impianti d'allarme il rischio è che si comincia a diventare diffidenti anche nei confronti dei propri compaesani.